amici sportivi amici della polisportiva isili in diretta anche oggi dal bocciodromo degli impianti della comunità montana sta per avere inizio l'incontro del campionato di seconda categoria fra l'isili e il san sperate la sperata schierato con maglia bianca la vostra sinistra l'isilese della polisportiva isili alla vostra destra in maglia prevalentemente azzurra arbitre dell'incontro i tesserati di isili edoardo meli e pasquale loi il direttore di gara sta illustrando le normative anti covit che regolano le gare di questa categoria all'individuale per l'isili giuseppe berruti è la terna meloni piras pintori alcune defezioni anche oggi nella formazione mancanza di massimiliano murro costringe l'isilese a giocare in formazione ridotta direttore di gara alessandra cosso che tra poco darà in inizio alla partita alla gara grazie a tutti 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 di minuto di prova Campi. Grazie a tutti. 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 Arbitri pronti per dirigere l'incontro. Ricordiamo sul campo 3 alla vostra sinistra la gara di individuale con Giuseppe Berruti e sulla destra campo 2 Laterna per l'isile Piras Meloni, pintore. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Guarda. Grazie. Volta. Grazie. ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 La boccia è lunga. Insocora. Intanto al campo della terra, due punti a terra per San Sperate. Campo individuale, Isidi 7, San Sperate 3. Terna, San Sperate, conquista due punti. Conteggio 5 Isidi, San Sperate 2. Conteggio 5 Isidi, San Sperate, conquista due punti. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 con il punteggio di 7,8,4. Quindi Isiri 2, sta sperate 0 nel conteggio dei set. Nell'individuale Isiri conquista 3 punti, 3 a 0. Nel'individuale Isiri, Nel'individuale Isiri, Nel'individuale Isiri, Nel'individuale Isiri, Nel'individuale Isiri, Nel'individuale Isiri, Sì, è questa che si strubbata. 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 Sì, è per 1-0. Sì, è questa che si strubbata. 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 individuale si strubbata. 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 per! di! si strubbata. per! Individuale, visi di sei, San Sperate quattro. Nella terna un punto per San Sperate, punteggio di uno pari. Grazie. 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 Big bop. Punto. 6-1 per Iseri. 6-1 per Iseri. 6-1 per Iseri. 7-1 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 per Iseri. 8-1 per Iseri. 7-1 per Iseri. 7-1 per Iseri. 8-1 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 per Iseri. 1-1 per Iseri. 9-1 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 per Iseri. 10-1 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 per Iseri. 1-1 per Iseri. 10-1 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 per Iseri. Iseri. 10-1 per 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 Iseri. Iseri. 10-1 per 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 Iseri. Iseri.